La scelta della destinazione desiderata dovrebbe venire in primo luogo alla luce della somiglianza del piano studi da questa proposto con il proprio e solo in secondo luogo sulla base della reputazione della sede estera, della collocazione geografica o dei feedback di altri studenti. Tuttavia, anche per il meccanismo di attribuzione della sede estera è possibile, anche se raro, che ci si trovi a dover effettuare il periodo all'estero presso una sede con un'offerta formativa lontana dal proprio piano studi e quindi non si trovi alcun esame da poter convertire tra quelli ancora da sostenere in Università Cattolica. In questo caso una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla modifica del proprio piano studi in Università Cattolica. Questa può avvenire secondo due modalità. Modalità A. Sostituzione di uno o più esami del piano studi con esami che non sarebbero normalmente opzionabili. Lo studente in questo caso può modificare il proprio piano studi inserendo uno o più corsi scelti tra quelli che avrebbe potuto opzionare nell'ambito dei corsi facoltativi previsti per il suo corso di laurea. Ad esempio se lo studente, indipendentemente dalla sua decisione di andare all'estero, ha la possibilità di scegliere se inserire a piano studi il corso di economia monetaria o quello di economia internazionale, anche se quando ha consegnato il piano studi era stato selezionato il primo, che non trova corrispondenza all'estero, può rivedere il piano studi in Italia e sostituirlo con il secondo. Solo per gli studenti exchange il polo studenti, dietro conferma da parte della commissione, può autorizzare tale modifica di piano studi, anche oltre i termini altrimenti previsti e addirittura al ritorno dall'estero. La cosa fondamentale è che questa modifica di piano studi sia possibile, tenuto conto delle regole previste nell'ambito del proprio corso di laurea. Per quanto riguarda le approvazioni, in questo caso lo studente deve inviare alla commissione exchange la scheda inserendo già la nuova ipotesi di piano studi per sapere se esiste la possibilità di conversione del nuovo esame che intende inserire con uno da sostenere all'estero. A ritorno dal periodo all'estero dovrà poi rivolgersi al polo studenti e chiedere che venga attivata la procedura speciale per la revisione del suo piano studi. Se l'esame che lo studente vuole inserire a piano studi non è tra quelli a scelta, la sostituzione o l'inserimento dello stesso, nel caso di esame sovrannumerario, dovrà essere autorizzata prima della partenza anche dal coordinatore del proprio corso di laurea. Ipotizziamo ad esempio che uno studente del corso di laurea in management per l'impresa desidera inserire a piano studi un corso di econometria avanzata, non previsto tra quelli del suo corso di laurea. In questo caso è necessario che lo studente si rivolga al coordinatore del corso di laurea per avere l'autorizzazione a inserire tal esame a piano studi, cosa che il coordinatore farà tenuto conto della coerenza della richiesta con il curriculum seguito dallo studente. Può quindi accadere che a fronte di una richiesta di questo tipo il coordinatore di un corso di laurea non approvi la modifica del piano studi perché ritiene che non sia funzionale all'apprendimento dello studente. La procedura prevede comunque che anche la commissione exchange si esprima non sull'opportunità di inserire quell'esame a piano studi ma sulla convertibilità dello stesso. La procedura per questo aspetto è standard. Lo studente prima di partire deve fare richiesta di riconoscimento dell'esame tramite la scheda Excel inviandola alla commissione exchange. Dovrà poi al ritorno dall'estero far domanda dal polo studenti per modificare il proprio piano studi portando con sé la mail di autorizzazione del coordinatore del corso di laurea e quella della commissione exchange. In entrambi i casi quindi modalità A o modalità B può essere utile incontrare un membro della commissione exchange per una consulenza specifica scrivendo a economia.exchange.unicat.it o al singolo docente che ha già esaminato la scheda per le approvazioni. Questo solo dopo che lo studente ha già fatto un'accurata valutazione delle possibili conversioni ed è sicuro che non ci siano altri corsi convertibili.